Cosa troveremo nel box da 24 bustine del TCG di One Piece? Quali saranno le carte più ricercate? E cosa cambierà dai suoi predecessori? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. OP04 è finalmente arrivato, e con esso è giunto anche un nuovo meta che ha parzialmente cambiato il volto del gioco. Infatti, con la comparsa di Doflamingo, Rebecca, Queen, Vivi, Isho e Crocodile nelle loro versioni bicolore, assieme a diversi altri protagonisti che vedremo in dei video dedicati, ci sarà molto da giocare ed esplorare. Inoltre, cambieranno alcune cose per quanto riguarda Intrigue rispetto ai suoi predecessori, come ad esempio l'assenza dei don tradizionali all'interno di ogni booster pack. Infatti, al loro posto, troverete una carta giocabile che potrà essere o integrata all'interno della vostra collezione, o far parte del deck che deciderete di giocare, per un totale di 24 carte in più per ogni box. Altro cambiamento vedrà coinvolti sempre i don, ma questa volta alternativi. Infatti, se per OP01, 2 e 3 se ne potevano trovare uno per box, qui ne troverete due raffiguranti l'atto finale della saga di Alabasta, dove Vivi saluta i pirati di cappello di paglia che si allontanano all'orizzonte, mostrando la X riportata sul braccio. La scena è quella. In questo video, quindi, inizieremo la ricerca di alcune delle carte più importanti del set aprendo un box da 24 bustine, augurandoci di trovare la più rara di Kings of Moving Trig, ovvero il Sabo Manga. Riusciremo nell'impresa? Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più, in descrizione, troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto. Torniamo al video. Ed ora, scopriamo assieme cosa conterrà il box da 24 bustine di OP04. Andiamo a dargli un'occhiata. Eccoci qua, signori, box pronto per essere aperto. Lo andiamo ad aprire immediatamente, quindi cutter alla mano. Andiamo a togliere il cellophane. Ripetiamo un attimo anche il tappo al cutter, altrimenti qui da video informativo diventa un video splatter. Finalmente, finalmente, signori, finalmente. Non vedo l'ora di sbustare e portarvi un contenuto del genere sul canale. Ritorniamo con One Piece in grande stile, quindi primissimo pacchetto. Intanto è già pronto anche il secchio. Un attimo che me lo avvicino. E partiamo subito con Sanji. Sanji che effettivamente risulterà essere un grande avversario di Sanikun. Sanikun che molto probabilmente andrà a calare di prezzo in questi mesi, o magari verrà utilizzato in combinazione anche con Sanji. Per quanto riguarda il mazzo di Zoro, staremo a vedere. Intanto qua... Uh, subito una Sugar! Signori, una Sugar! Ottima carta, ideale per quanto riguarda la profile del nostro Doffi. Ideale davvero? Una delle carte principali del Doffi. Ebbene, partiamo immediatamente con il botto. Primo pacchetto. Intanto mi avvicino anche le bustine, come sempre le nostre Lagoon, signori che ci fanno compagnia, le Dual e Sugar. Ce la siamo portati a casa, signori. Guardate qui, la bellezza di Sugar. Bellissima davvero. Anche con questo texture tutto giocoso dietro. Davvero molto molto carina. Intanto qua mi sto mettendo a posto le varie carte suddivise per colori, così almeno non vado ad impazzire poi quando devo effettivamente rimetterle a posto. Charlotte Bavaroi. Tom. Two weak don't have the right to choose. Potevate chiamarlo anche in maniera un po' più corto questa carta. Rocky. Sulemani. Sulemani. Che ci si diverte. Mi sono perso i colori. Luffy. Interessante. Netspawn Cannon. Spiderweb. Ottima. E poi... Uh! Un Sabo. Un Sabo. Molto interessante Sabo. Anche questa è una carta fondamentale per i mazzi ad esempio di... Mi scappa il nome adesso di Rebecca. Ad esempio. L'ho visto utilizzare molto spesso nei mazzi di Rebecca ma credo che sia una delle carte principali anche questa perché ha tratto... Dress rossa e quindi si sposa alla perfezione anche con l'effetto del leader, anzi della leader di Dress rossa. Deck interessante signori. Deck devo dirlo molto interessante. Vedremo come si comporterà andando avanti con il meta. Intanto qua... Ching Jao. Kung Fu. Jung Gon. Black Maria. Happiness Punch. Charlotte Pero Spero. Mr. 13. Mr. Friday. Gunk Modocchi. Leo. Super Spot. Billed Duck Troops. Eccolo il Duffy. E quindi automaticamente c'è Bartolomeu e Heavenly Fire. il Duffy davvero molto molto forte. Questo Duffy davvero molto forte lo vedremo sicuramente nei piani alti del meta attuale di questo OP04. Intanto volevo ringraziare Grande Inverno per aver fornito il box che stiamo aprendo in questo video. Giolla. Happiness Punch. 2 Week 2. Si. Otama. Queen. Kozuki Hiyori. Gino. Colostrap. E poi oh bellissima questa signori. Questa SR è meravigliosa. Guardate la bellezza di questa carta signori. di Nefertari Vivi. Il manga. Insomma ci sono state delle rivelazioni molto molto interessanti. Comunque volevo avvisare che ogni alternative, se ci saranno delle alternative, verranno poi vendute. Quindi non sono interessato minimamente alle alternative. A tutto il resto ovviamente sì, ma questa secret signori vale davvero il box. Non a livello di costo, ma insomma abbiamo trovato una secret. Poi ovviamente io già ho aperto anche altri box, altri due. Se avete visto le stories su Instagram mi sono stati dati tre box. Due li ho aperti per conto mio. Intanto qua c'è il Don. Quindi questo possiamo, questo pacchetto possiamo assolutamente schipparlo. Abbiamo trovato un Kiros e un Bad Monarchy Course. Dopodiché andiamo a risistemare tutte le carte. Oh, c'è anche una Vivi. Nefertari Vivi. E già l'abbiamo trovata. La mettiamo qui. Leader molto interessante anche i Vivi, signori. Sicuramente saprà dire la sua nel meta di OP04. Personalmente ho giocato sempre con Luffy. Intanto spostiamo il Don. Con Luffy Rosso, il mio Luffy che oramai mi porto dall'inizio del gioco. Contro Rebecca mi sembra proprio. Non è andata male, ma ho sudato non poco. Ching Jao. Kung Fu Jun's Wars. Ice Oni. Kuro. Kuro, fantastico. Ideo. Apis. Nefertari Cobra. Mi sono perso il blu. Nefertari Cobra. Monkey. È bellissimo, Monkey, sì. Mister 2. Gangnam King Kong Gun. Ottimo. Usoppa. All in. E poi Matt Banners, come sempre. Va benissimo. Va benissimo, signori. Intanto non sta andando male, eh. Non sta andando male. Abbiamo trovato già una Secret e due... Se non mi sbaglio, sì. Due SR, quindi ottimo. Karu. Rabian. No, continuo a fare così, altrimenti perdo troppo tempo. Viola. Tonio Istospraz. Era. Mister 2. Queen. Bellissimo. Diamante. Ottima. Anche nel mazzo di sempre Doffi e poi tutto il resto. Tanto qui ammocchio, altrimenti, signori, veramente finisco dopo domani, poi con calma mi risistemerò tutto quanto. Intanto, scusate un attimo, ma andiamo a riprendere le carte che hanno un certo valore anche a livello di bellezza e tutto il resto. Le spostiamo, le separiamo da tutto il resto e le mettiamo in primo, in secondo piano, più che in primo piano messe qui. Datevi un secondo che sistemo. Ecco qua, perfetto. Ne mettiamo qui da una parte. Al momento sono Sugar Sabo e la Secret Nefertari Vivi. Già ho sbustato altre due Secret di Rosinante, quindi per quanto riguarda la collezione mia personale, insomma, ci avviciniamo al completamento. Mi mancavano, dopo due box, tipo quattro carte in uno per tutto, in versione normal, ovviamente, non con le alternative e tutto il resto. Randolph, Page One, Toko, un'altra Queen e quindi qui c'è Igam e Trueno, Bastardo, scritto proprio Bastardo. Fantastico, così. Perché sì, perché no, ma perché no proprio. Vediamo se riusciamo a trovare tutti i leader, se non mi sbaglio me ne mancano un paio. Dobbiamo vedere Ice Honey, Bavoro, Imbus World, Rocky, Mr. 13 e Mr. 14000, Nami, troppo lungo, Arjuin, Usoppa, Gangnam King Kong, Spoon, Olin e poi un'altra Yamato. Signori, dico un'altra perché già ne ho sbustate altre due, quindi il... praticamente il find rate di una per box. Va bene, per chi gioca giallo, insomma, è una grande cosa, per me che non gioco giallo, ok, magari le venderò, vedrò cosa farci. Al momento non sono tanto interessato a giocare il giallo perché ha una dinamica che personalmente non mi soddisfa tanto, il fatto di manipolare vite, eccetera, eccetera. Sì, ovviamente torna utile in fase di torneo, ma insomma a me piace attaccare, piace attaccare veramente. 13, Baby5, Nas, Isho, ecco un altro, poi Trebor e Furenki, Furenki Garage, ecco Isho, altro leader davvero molto molto interessante. Il fatto è che ci sono praticamente tutti bicolor, se non mi sbaglio, ce ne sono... non ho studiato a fondo questo set, devo dire la verità, perché con tutto quello che ha suscitato poi l'Orcana in questi periodi, insomma, sono stato un po' indietro. Però attenzione, bellissimo Usu Alternative, bellissimo Usu Alternative, aspettate un secondo, aspettate un secondo qua subito, attenzione, adesso vi faccio anche comprendere per chi magari è nuovo del gioco e non riesce a riconoscere le Alternative dalle carte secret normali, vi faccio comprendere qual è il simbolino, questo qui praticamente c'è, non so se riuscite a vederlo, una stellina sopra la rarità della carta, quindi questa è una carta rara, di solito si trova rara, ma questa è l'Alternative, perché ha una stellina proprio sopra, immediatamente sopra, alla tipologia di rarità della carta. E questo Usu è una meraviglia, è davvero una meraviglia, sta sferrando il colpo, davvero davvero bella, davvero bella. Prima Alternative, signori, prima Alternative e molto probabilmente anche l'ultima, quindi c'è uscita Usu tanta roba, ovviamente noi andiamo alla ricerca del manga, signori, anche se, beh, insomma, ne ho trovato uno, credo che questa fortuna, anzi la fortuna che ho avuto nel trovare Ace, mi basterà per tutta la vita, quindi non troveremo più manga in vita nostra, o almeno in vita mia, in vita vostra, me lo auguro fortemente. Vediamo adesso di andare avanti, che ci siamo avvicinati, credo ci siamo, forse sì, sicuramente alla metà del box, Karoo, Happiness Punch, Viola, Iceburg, Isho, ecco Isho, e poi Ingram e Senor Pink. Ovviamente Kings of Intrigue, che è OP04, si basa principalmente sui fatti avvenuti ad Alabasta, infatti abbiamo Nefertari Vivi, abbiamo Ingram, tutti i mister, eccetera, eccetera, quindi, insomma, i Kung Fu Jung John, che sono praticamente coloro che hanno seguito Luffy, i quali... oh, un'altra Sugar, ottimo, davvero ottimo, due Sugar in un box, non è male, dicevo, per chi ha letto il manga e per chi ha seguito l'anime, sono praticamente... è l'armata iniziale di Luffy, ed è ovviamente l'armata che io volevo tanto vedere in azione, ma purtroppo non ho avuto questa fortuna perché sono praticamente nati e morti a livello di arco narrativo, una volta che i nostri protagonisti hanno lasciato, hanno fatto l'ingresso e poi lasciato di seguito l'isola di Vivi, e continuiamo con Giaz, Page One, Hira, Bartolomeo e poi Husu, vedete? Questa è la versione rara e questa è la versione rara alternative, Husu normale, bello micione. Continuiamo, ci avviciniamo, sì, abbiamo superato abbondantemente la metà del box, intanto volevo ringraziare ancora una volta Grande Inverno per averci fornito il box che stiamo sbustando in questo momento. Sulemani, cosa? Kinemon e poi Sanji! Molto bene anche questo Sanji, molto molto bene anche questo Sanji, un blocker semplicissimo ma che a costo 4 ha la bellezza di 5.000 punti di forza, quindi all'evenienza può risultare minaccioso anche in fase di attacco e ho visto diversi giocatori attuare proprio la strategia del ci attacco con il blocker in modo tale che poi alla fine comunque mi viene attaccato dall'avversario e quindi è come se svolgesse effettivamente una duplice funzione in attacco ma anche in difesa perché poi giustamente l'interesse è di toglierlo di mezzo. Carmel, Ice Oni, Sanji, Miss Mary's Force, Idea, Weakness, è un peccato incredibile, Gino, Gangnam, King Kong, Heavenly Fire e poi Diamante. Ottimo, aver trovato un altro Diamante ne ho trovati tipo 6 o 7 quindi sono davvero facili da reperire, signori, davvero molto molto facili da reperire. Intanto qua, Chinchun Chaun, Dellinger, Hunger, Rocky, Viola, Mr. Merry Christmas, Otama, Mr. 3, Harduin, King e poi Rebecca. Rebecca Character ovviamente. Qui ci avviciniamo alla fine signori, adesso andiamo a contare quanti ne mancano di Booster Pack alla fine. dobbiamo ancora trovare, ecco l'ho chiamato, dobbiamo ancora trovare il secondo Don perché da OP04 signori i Don Alternative saranno due. Come già ho detto anche ad inizio del video ci saranno delle cose che cambieranno, ovvero potrete trovare due Don Alternative all'interno di un box e i Don, quelli tradizionali, non saranno più presenti. Quindi avrete comunque la possibilità di trovare una carta in più a Booster Box. Calcolando che ci sono 24 pacchetti all'interno di un box, ci saranno 24 carte in più che potranno far parte o del vostro deck o della vostra collezione. Quindi ottima questa cosa, infatti se ci avete fatto caso non abbiamo assolutamente sbustato neanche un Don se non quelli per l'appunto Alternative. E qui signori arriva anche un Doflamingo costo 10 che mi fa molto molto piacere aver incontrato perché adesso ne ho due e me ne mancano altri due che magari reperirò con calma un giorno chissà se deciderò di montare il Doffi, intanto aggiungiamoci anche Bustina Protettiva, ottimo. Doffi a costo 10, fantastico, è una carta di una potenza straordinaria. Fino a tre character opponenti non possono essere ripristinati durante il turno e la fase di refresh dell'avversario. Character e ovviamente leader, quindi o un leader e due character o tre character direttamente cosa che magari contro mazzi tipo Rebecca o Vivi che non possono attaccare proprio i leader insomma risulta essere un qualcosa di davvero devastante. Ippona, Spuzio, Pledge, Spor, Ideo, Gommodoki, Machiavelli, Mister2, un altro Don Quixote, Roronoa e Miss Valentine. Ultimi tre starter, intanto qua c'è un'invasione di campo da parte delle comunazze, un attimo che sposto perfetto altrimenti qui va a finire male dopodiché recappino velocissimo per quanto riguarda il pool che ci ha fornito questo box e poi conclusioni signori, passeremo alle conclusioni. Cosa? Dragon, Cavendish e un Pell rosso. Bellissimo Pell SR, davvero bellissimo. Poi uno dei protagonisti di Alabasta che se non fosse stato per lui insomma credo che tutto il paese sarebbe saltato in aria. La cosa buona è che poi, leggendo il manga, si scopre che è sopravvissuto all'esplosione e questo ha reso ancor di più eroico il suo gesto. Randolph, Nefertari Cobra, Sasaki, Yu-Yos Vaz, Flapping de Spruz e poi eccolo signori, il capone Gang Bag Alternative ed è bellissimo signori, ed è bellissimo. Guardate la bellezza di questa carta signori, la bellezza di questa carta. L'ho notata subito appena l'hanno messa in chiaro, l'ho notata subito ed è di una bellezza straordinaria. bellezza straordinaria signori, seconda alternative del box ma è bellissimo, davvero bellissimo. Meraviglioso. Ultimo box, va bene, ultimo booster pack signori. Vediamo cosa... vai, dammi Sabo Manga, Sabo Manga vai vai, a posto ci siamo eh signori, qua si urla Banana Gator, Sanji, Dellinger, Hunger, Happiness Punch, Charlotte Verospero, Barrier, Yokozuna, Charlotte Moscato, Baby Fire, Capone Gang Bag e... niente, King, va bene, comunque signori abbiamo chiuso sicuramente in bellezza perché di leader ne abbiamo trovati diversi, abbiamo trovato due Queen, una Vivi, un Doflamingo e due Isho, quindi va bene, non è un problema, e qui abbiamo Capone Gang Bag e Pell, Donkey Hot Doflamingo, a costo 10, Sanji SR, Sugar, le abbiamo trovate in duplice copia, ottimo, Usu Alternative, Yamato SR, Sabo e poi Nefertari Vivi Secret. Signori, vi lascio qui tutte quante le rare, ve le spargo un po', passiamo alle conclusioni. Il box da 24 bustine del quarto set del TCG di One Piece verrà venduto ad un prezzo indicativo di 120 euro. Al suo interno potrete trovare carte che costruiranno la colonna portante di alcuni leader, come Doflamingo, Verde e Viola, con le Sugar, i Diamante, lo stesso Doffi a costo 10 e molti altri. Per chi vorrà avvicinarsi al gioco, questo sarà un set ideale, soprattutto per il pull rate delle super rare e delle alternative, che mi sembra leggermente aumentato rispetto ai capitoli precedenti, quindi ne consiglio vivamente l'acquisto. Concludendo, se non avrete la possibilità di recuperare i vecchi set, iniziate da questo, per avere una base solida dalla quale partire, per poi recuperare singolarmente le carte che vi serviranno per completare la profile che avrete in mente di giocare. E voi avete già aperto qualche box di OP04? E se sì, quale carta di valore avete trovato? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.